Nella notte l'arresto del 35enne Domenico Salamina, detto Nico, con l'accusa di detenzione di arma da fuoco, una pistola che ora subirà gli accertamenti tecnici per verificare se una delle armi utilizzate venerdì sera dopo le 18 nella sparatoria che ha terrorizzato i tanti che vi hanno assistito, avvenuta nei pressi di una stazione di servizio nella trafficatissima via Mediterraneo al quartiere Tramontone di Taranto. Questa è la prima risultanza delle immediate indagini portate avanti dalla squadra mobile diretta dal vicequestore Luigi Vessio e convalidate dal pubblico ministero, il dottor Salvatore Colella, della Procura della Repubblica di Taranto. Sul luogo della sparatoria sono state acquisite testimonianze e immagini di diverse telecamere, repertati 16 bossoli. Si indaga nel mondo dello spazio della droga ma anche del campo di eventuali ripicche e ritorsioni. Nel 2020 infatti, e chissà se questo fatto è correlato a quanto accaduto, Nico Salamina fu al centro di un altro episodio violento in quanto bersaglio di due colpi di pistola. Come si dice in questi casi continuano le indagini ma ha fatto notare a tutti che questa sparatoria è avvenuta di venerdì sera in una strada trafficatissima che mette in collegamento la litoranea salentina al centro cittadino. In un popoloso quartiere ci sono gli ingredienti per essere come minimo allarmati. A Taranto insomma si torna a sparare tra la gente senza ritegno.